Decreto di perquisizione di un locale messo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno a carico di un avvocato indagato di appropriazione in debita di numerose opere pittoriche dell'artista Fernando Mangone di Altavilla Silentina, avendone il possesso quale incaricato alla vendita. Nel corso dell'operazione svolta dai carabinieri della Compagnia di Battipaglia, coordinati dal Maggiore Fasolino, sono stati recuperati ben 14 quadri d'opere d'arte contemporanea di rilevante valore economico per un valore complessivo di circa 210.000 euro che il professionista deteneva presso la propria abitazione. Il nome dell'artista è balzato agli onori della cronaca del settore per essere entrato a far parte degli artisti della collezione Sgarbi, nonché per essere stato segnalato anche dal noto critico d'arte Paolo Levi, il sequestro e il completamento di un'attività di indagine condotta dalla Compagnia Carabinieri di Battipaglia a seguito della denuncia asporta dal noto artista, il quale aveva affidato le sue opere al giovane professionista, anche gli originali di Altavilla Silentina, che vantava conoscenze di soggetti interessati all'arte contemporanea, con possibilità di esporre le opere in diverse sedi di un noto istituto di credito presente a livello nazionale.